Ultima gara di giornata, partono anche gli atleti della categoria G6, seconda batteria. Tirano Bike, Team 2004, Nuvolera, Ronco e Valle Camonica, le squadre sulla testa del platone. Andatura ancora tranquilla e il gruppo si mantiene compatto e numeroso. E' un portacolori della Tirano Bike che prova ad aumentare leggermente l'andatura, sempre attento a non farsi sorprendere. Ci stiamo avvicinando al traguardo e ancora nulla si muove. I ragazzi si controllano ma sembra che nessuno voglia provare ad anticipare la volata finale. Ultimo giro e sono rimasti una decina di atleti a lottare per la vittoria. E chiude in bellezza Lucica Priano, la società organizzatrice, con la vittoria di Quaresmini Michelle che si impone davanti a Pasini Kevin della Nuvolera, Bresciani Fabio della Mazzano, Bresciani Alessandro della Travagliato e Martinelli Nicola della Tirano Bike. Bresciani Alessandro della Travagliato Bresciani Alessandro della Travagliato Baby, baby, baby Spend your time on me Don't you be out All night long Leaving me all night long Because I'm